Meet Me Tonight è la notte dei ricercatori che si terrà in Lombardia. Noi facciamo delle ricerche per conoscere, per sviluppare nuovi farmaci, per tutelare l'ambiente, per migliorare la qualità della vita. La ricerca in fisica spazia dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. I progetti tecnologici che ci stanno intorno sono stati fatti perché, frutto di ricerca, sono stati sviluppati all'interno di progetti di ricerca. L'Italia è un paese dove si fa ricerca, ma l'Italia è un paese dove si fa dell'ottima ricerca. Questo è un esperimento scientifico serissimo! Nella mitologia, secondo me, siamo divisi fra la visione dello scienziato pazzo nel laboratorio chiuso al buio e il barone, che è questa cosa, una figura estremamente negativa. E avversiamo il livello dei nostri spettacoli! Il tema della ricerca dello sport è sicuramente un tema assai sentito per noi dirigenti sportivi. La sport e ricerca hanno tanto in comune, ad esempio il fatto che attraverso il lavoro e l'impegno si possano ottenere dei risultati. E' quello che sta emergendo nel mondo, in particolare a partire dagli Stati Uniti, che è necessaria una multidisciplinarietà, cercare di collaborare anche tra varie discipline. La ricerca deve essere condivisa, è un bene comune. E poi c'è la passione, cioè la passione che muove la ricerca, che chiama proprio in causa i ricercatori a far conoscere il loro lavoro. Quello che è importante è coinvolgere proprio i cittadini, interagire con i ricercatori, dobbiamo soprattutto anche creare squadre sportive. Proprio per poter in una sera ludica intrattenersi e comunque capire esattamente chi è il ricercatore e che cosa fa.